Intervento dei vigili del fuoco questa notte nel Savonese per un vasto incendio in un rimessaggio di roulotte camper e imbarcazioni ad Ortovero. Erano circa le due quando è stato lanciato l'allarme. Sul posto si sono recate diverse squadre del comando di Savona. Circa 100 i mezzi contenuti all'interno della struttura in fiamme con altri 100 parcheggiati all'esterno. Un intenso calore si è sviluppato velocemente e le operazioni di spegnimento sono state molto complicate. Sul posto sono giunti anche un mezzo speciale aeroportuale Dragon e la chilolitrica con una riserva d'acqua di 26.000 litri mentre due autobotti facevano la spola per il rifornimento. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il capannone e molti dei mezzi parcheggiati. L'imponente colonna di fumo nero e l'odore acre di bruciato sono stati avvertiti anche a chilometri di distanza. Il rogo dopo sei ore di intenso lavoro è stato infine spento senza che vi fossero feriti. Sono poi seguite le operazioni di bonifica. Sono ora in corso le indagini per accertare cosa abbia causato le fiamme.